Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100% bianconera. Benvenuti amici di Juventus News 24, per parlare della sfida contro il PSG voglio partire da un episodio significativo di ormai qualche anno fa. L'ho raccontato recentemente Giorgio Chiellini, dopo una partita a San Siro contro il Milan, finita 0-0 contro un grande Milan, al rientro degli spogliatori diciamo che il clima era piuttosto disteso, sereno, i giocatori erano abbastanza soddisfatti, di quel punto in trasferta contro un grande Milan e mentre stavano rientrando tutti gli spogliatori c'era soltanto uno che invece era piuttosto arrabbiato. Alessandro Del Piero presa a calci un po' la roba, sfogò la sua rabbia così e Chiellini chiese proprio a Buffon come mai questo comportamento, questa reazione e Buffon gli disse lascialo fare, deve sbollire la rabbia e poi si calma. E così successe. Questo per spiegare cosa? L'atteggiamento di una Juventus che non si accontentava. Un punto anche in trasferta e anche contro un grande Milan a San Siro era vissuto con fastidio da parte dei protagonisti, dei campioni, dei leader che volevano vincere sempre e comunque. Ecco, questo è un atteggiamento che è mancato, è mancato a Sprazi quest'anno ma anche negli ultimi anni ed è qualcosa che va tramandato, sono andati via dei campioni molto importanti dai Buffon ai Chiellini l'anno scorso e probabilmente questa mentalità vincente che la Juve aveva acquisito di default va ancora tramandata alle nuove generazioni che sanno cos'è ma forse non sono ancora riusciti a tradurlo in campo o con il loro comportamento. Nulla di grave, si può assolutamente rimediare. Però è chiaro che una Juve che esce con una sconfitta di misura, ok, dal parco di principi, non può essere comunque vissuta come un risultato soddisfacente. La Juve deve vincere sempre e comunque e quando non vince è un problema. In parte questa reazione si è vista nelle parole di Danilo, un ragazzo molto in gamba, maturo, che ha già una certa esperienza, tale per cui ha detto le cose che doveva dire nel post partita, incalzato dalle domande su un PSG che si aspettava una partita facile, ferma e dice ragazzi, facile fino a un certo punto perché noi siamo la Juve, noi prepariamo le partite e noi andiamo in trasferta o in casa, noi scendiamo in campo per vincere. Questo è il DNA Juve, da queste parole che si percepisce che Danilo l'abbia assolutamente metabolizzato. Forse ancora non tutti, soprattutto magari i giovani, non sanno cosa vuol dire incazzarsi per 1-0-0, non digerire una sconfitta di misura seppur contro il PSG. È questo che fa la differenza tra la Juve e le altre squadre, l'ha sempre fatta nella storia e nella tradizione, è questo che fa la differenza poi a fine stagione tra sollevare un trofeo e non farlo. Per arrivare in fondo agli obiettivi, per sollevare Scudetti, per vincere coppe, bisogna scendere in campo con quell'atteggiamento sempre e comunque in trasferta e in casa contro qualsiasi squadra. Non bisogna mai partire per accontentarsi o di un pareggio o guai, peggio, addirittura di una sconfitta di misura, perché non è proprio nel DNA della Juventus. Se forse questa partita contro il PSG è servita a farlo capire un pochino a tutti. Analizziamo anche la partita, una sconfitta di misura, dicevamo, contro un gran PSG. È stata una partita piuttosto strana, iniziata con un'inerzia schiacciante da parte dei parigini, che hanno avuto due occasioni clamorose trasformate da Mbappé. Sembrava una partita a senso unico, di fatto, e poi la Juventus è riuscita pian pianino a riadrizzarla, rischiando anche di pareggiare nel finale. Il 3-5-2, a mio giudizio, è stato un esperimento riuscito, perché non è stato sbagliato il sistema di gioco scelto da Allegri, proprio il 3-5-2, quanto l'atteggiamento dei primi minuti. Si è vista una Juve troppo rinunciataria, troppo bassa, che di fatto regalava l'inerzia agli avversari. E sai bene, se tu concedi campo e palla al PSG, cosa ti può capitare? Si è visto benissimo, con due accelerazioni, di fatto Mbappé ha trovato due volte la porta. Ecco, lì la partita sembrava di fatto chiusa, anche perché la Juve aveva fatto ben poco, però qualche segnale si è visto, qualche occasione ce l'ha avuta, soprattutto Milik di testa, grande donna Rumma, però di fatto sembrava troppo poco per riuscire a scalfire le certezze del Pejet. La sensazione era che il Pejet, quando voleva accelerare, poteva segnare da un momento all'altro. Nel secondo tempo, invece, qualcosa è cambiato, complice anche il cambio di sistema di gioco, il passaggio al 4-4-2 e anche l'inserimento di McKennie al posto di Miretti. Attenzione, non è una bocciatura per Miretti, che tra l'altro ha fatto il suo esordio, in Champions quanto serviva un giocatore dalle caratteristiche diverse. E McKennie aveva quello che cercava Allegri in quel momento, un centrocampista in grado di inserirsi, in grado, all'eventualità anche di fare gol. E l'ho dimostrato. Ottimo il cross di Kostic, molto bravo McKennie a rubare il tempo, insomma la difesa del Pejet, pessimo Donnarumma che fa un'uscita da mani nei capelli. Un gol che poi alla fine non ha cambiato a livello di equilibrio e di punti, però insomma poteva costare carissimo al Pejet, che nei primi 20-30 minuti aveva assolutamente dominato la Juve. Da quel momento è una partita che diventa anche piacevole, è una partita nella quale il Pejet inizia ad avere un po' di timore dalla Juventus, e la Juve inizia a crederci, inizia ad alzare il baricentro, si crea anche diverse occasioni, ne ha avute un paio colossali, c'è da dire che nel finale anche il Pejet si è costruito diverse occasioni per chiudere la partita definitivamente sul 3-1, però insomma un secondo tempo che lascia assolutamente ben sperare, anche per il proseguio della stagione, ci si aspettava una debacle clamorosa, ci si aspettava un 5-0, un 5-1, in realtà è arrivato un 2-1 che non deve lasciare soddisfatti, però può essere un punto assolutamente da cui ripartire. Parliamo anche dei singoli perché ancora una volta Perin si è confermato assolutamente in condizione, fa la differenza, sta facendo la differenza, sta portando punti alla Juventus, cosa che non faceva negli anni scorsi, evidentemente è responsabilizzato anche da Allegri e anche da questo infortunio di Scesni e quindi ha trovato la continuità in campo che gli mancava, è un Perin sempre più decisivo, ha parato il rigore a Jovic contro la Fiorentina e nel finale si è opposto da grande campione, diciamolo quasi distinto di piedi, di gambe, a una conclusione che era di fatto il 3-1 scritto. Bravo Perin, pessima invece la difesa, che fatica, difesa bocciata in tutti e tre gli elementi, chi più chi meno, ma tutti e tre insufficienti. In grande difficoltà Bremer, e si è visto non soltanto nello scavetto di Neymar per il primo gol di Mbappé, ma costantemente in difficoltà, faceva molta fatica a trovare gli spazi, spesso cercava l'anticipo e veniva saltato netto. Bremer al di sotto sicuramente delle sue qualità, così come Bonucci, anche lui in grandissima difficoltà, sembrava veramente troppo lento per riuscire a stare dietro agli attaccanti del PSG, che sappiamo sono letali, però insomma la USA la deve giocare. Anche Danilo ha avuto delle difficoltà, ha qualche responsabilità anche sul gol, quindi insomma nella sostanza una difesa che ha faticato moltissimo a contenere gli attacchi del PSG. Decisamente meglio invece il centrocampo, discreta la partita di Paredes, non mi è dispiaciuto nemmeno Rabiot e anche Miretti finché è rimasto in campo, insomma sicuramente non il peggiore, e chiaramente poi la partita l'ha svoltata McKennie dalla panchina, ecco direi lui e Perin i migliori in campo. Il giudizio sugli attaccanti non hanno segnato, però hanno avuto l'opportunità per farlo. Kostic ha creato spesso e volentieri superiorità, ha messo dei cross interessanti, in crescita anche l'esterno, e questa è una buona notizia per Allegri anche in vista del campionato, come dicevamo, Millic ha avuto nel primo tempo un'ottima occasione salvata da un riflesso di Donnarumma di testa, e poi nella ripresa anche Vlaovic ha avuto l'opportunità di segnare. Quindi il 3-5-2 non è un esperimento fallito, è un sistema di gioco che in alcune partite, contro certi avversari, quando è a disposizione alcuni giocatori, si può fare. Grazie.